Fai il serio? Come faccio a fare il serio? Innaffia il campo ben bene, dai! Fai il serio? Fai il serio! Aspetta, aspetta eh! Non ce la fa fare il serio! Sì, ma ragazzi, ho un film questo perché sono riposo da mezz'ora... Guarda che io ti sto riprendendo eh! Ti sto riprendendo, vai! Eh, Sandro! Guardate che riscaldamento! Sono le tre e mezza del pomeriggio eh! Pensa che dovremmo giocare alle tre! Madonna mia, sono matti! E' buono! E' buono! Grazie.